Sanremo abbiamo individuato la scelta delle primarie che mi sembra un modo giusto pur con tutte le incognite che le primarie hanno ma un modo giusto per dare una parità nella partenza di ciascuno visto che Zoccarato che pur ha governato bene la città all'ultimo momento si è chiamato fuori non era pronta una sostituzione e allora proviamo a usare lo strumento delle primarie grazie